abitino per stasera giusto con una bella bestivale una bella scarpettina giusta allora bello perché abbiamo sto incrocio che non è scolato via d'incrocio quindi avendo un elasticchetto sotto qui quando c'è della scolatura poi si chiude un attimino ok tre taglie sml la fusciacca è sua poi vedete voi si metterne una griterata nera rossa verde quello che volete però questo è il suo pezzo ovviamente c'è lo spacco ma vedete che non è bello così come lo vedete maniche lunga elasticchetto sul polso poi ve lo tirate su quanto volete come vi piace io sopra ci ho messo sto paspartout qua che è una manica a tre quarti alla tasca si vede la tasca eccola lì e ci può stare queste giornate un po birichine no ecco io mi piace proporre anche l'abitino non solo con le cose corte ma anche con una robettina un po lunghettina così che dite ve lo mostro in in mano così sull'appendino così vi potete fare anche l'idea la main la main che è sempre in mezzo ecco qua metto lì a posto un attimino riprendo quando venite in negozio lo vedete così appeso l'abitino eccolo qui ci vedete anche la stampina dietro perché quando è addosso da manichino è difficile quando c'è qualcosa sopra no bene allora tra taglie sml il blazer chiamiamolo come volete io ho venduti a manetta sono quasi senza quindi mi rimane un nero e un grigio c'era il marrone c'era il nocciola e blu andati quindi sono quelle cosette pratiche facili da lavare una viscosa e una macchina di viscosa quindi tanto lo consiglio santa giustina oggi è aperto domani è aperto domenica pomeriggio aperto dai venite che vi aspetto che do una sorpresina e poi ho anche la gift card il modo da accedere quando venite le prossime volte me la date che c'è il 15 per cento su tutti gli articoli curvi non curvi quello che volete 15 per cento quindi approfittiamo ci vediamo alla prossima la prossima videata